Come riqualificare la domanda nell'IT? La domanda del settore pubblico in materia di sistemi informativi può essere riqualificata unicamente dando questo compito a soggetti particolarmente qualificati, quindi soltanto la specializzazione delle sezioni appaltanti, quindi poche ma molto qualificate, può essere lo strumento con cui realizzare veramente una politica industriale digitale nel nostro paese per quello che attiene alla domanda pubblica, perché l'evidenza che abbiamo sotto gli occhi è proprio il fatto che la domanda pubblica polverizzata non fa buoni acquisti per quello che riguarda anche il settore digitale e questo deprime le nostre imprese purtroppo. Come favorire la collaborazione tra grandi multinazionali e aziende italiane? Questo è possibile semplicemente facendo in modo che le imprese italiane possano ritrovare, ritrovino proprio quello spirito pionieristico che le metta insieme e insieme le porti a sviluppare idee innovative in maniera aggregata e in maniera tale da poterle realizzare anche con la grande capacità delle multinazionali che operano in Italia e che investono in Italia. Al contrario, senza lo spirito imprenditoriale che ha sempre caratterizzato le nostre imprese ma soltanto con l'idea o l'auspicio di una domanda garantita nei confronti delle piccole e medie imprese o anche solo delle imprese italiane purtroppo abbiamo visto che non si va in nessun posto. Quindi spirito imprenditoriale, capacità progettuale e questo insieme alle multinazionali dà ottimi risultati. E può far ripartire l'Italia? È il solo strumento che può far ripartire l'Italia perché altrimenti negli ultimi vent'anni non abbiamo visto migliori ricette, abbiamo visto soltanto una polverizzazione bilaterale della domanda e dell'offerta e il valore si è disperso. Invece l'aggregazione da un lato della committenza e dall'altro lato l'aggregazione che deve esserci sul lato dell'offerta possono essere lo strumento con cui riportare valore nell'innovazione e innovazione, quindi sviluppo e valore per il nostro paese. Grazie.